La Toscana vuole aumentare la propria capacità di attrazione degli investimenti e per lanciare la sua strategia, ha scelto la ribalta della seconda edizione di Toscana Tech, la due giorni dedicata a Industria 4.0 e digitalizzazione al Palazzo dei Congressi di Villa Vittoria a Firenze. È stato il presidente Enrico Rossi a lanciare da qui i Toscani Business Advisors, i capitani di azienda che in veste di consulenti avranno il compito di spiegare nelle comunità di affari come investire in Toscana e aumentare un trend che dai primi anni 2000 è cresciuto del 25%, con 2 miliardi di capitali intercettati dall'estero solo tra 2012 e 2015. Ai primi quattro advisors è stato consegnato il Pegaso d'argento, sono Charlie McGregor, fondatore e CEO di The Student Hotel, Davide Papavero, Global Industrial Director per la Global Business Unit Soda Ash e Derivati, Vincenzo Poerio, presidente del distretto nautico toscano ed Elena David, membro del CDA di Fideuram intesa San Paolo. Altri tre hanno già accettato l'invito e ne seguiranno altri a breve. Sono imprenditori, amministratori delegati anche di importanti imprese internazionali e multinazionali che hanno fatto una buona esperienza in Toscana e che sono disponibili a raccontare che in Toscana se si vuole investire si trovano le condizioni per farlo, per farlo in tempi adeguati, per ottenere permessi, per ottenere i supporti e i sostegni che possono essere dati anche sul piano della formazione, della ricerca, utilizzando bene i fondi europei. Farci un buon nome è importantissimo per attrarre investimenti. Nel mondo globalizzato il lavoro per l'attrazione degli investimenti è fondamentale per dare lavoro ai cittadini, per garantire sviluppo, crescita. Toscana Tech è stata anche l'occasione per ricordare come in Toscana, terza in Italia per capacità di attrarre investimenti dopo Lombardia e Lazio, sia attivo dal 2010 l'ufficio Invest in Toscani. Solo negli ultimi anni sono stati 10 gli accordi di programma e 50 i protocolli di intesa firmati. Proprio con l'ufficio Invest in Toscani, che si è conquistato il riconoscimento del Financial Times, i Toscani Business Advisors avranno un dialogo diretto con vantaggi per le piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto produttivo toscano, ben rappresentato alla manifestazione a Firenze. Toscana Tech è questo, è l'occasione per saldare il nostro mondo, cercare di metterlo nella condizione di essere testimone delle proprie eccellenze, far sì che i vari distretti nei quali è organicamente letta la nostra capacità produttiva possa portare al meglio in efficienza nei propri cicli produttivi, le reti e le filiere produttive. Abbiamo anche la consapevolezza di ciò che è stato fatto e di ciò che manca. Misuriamo un grado soddisfacente di innovazione tecnologica naturalmente nelle grandi imprese e anche nelle medie imprese. Sono più attardate le piccole imprese che mostrano ancora una scarsa propensione all'innovazione. Per questo connettività e tecnologie e in altre parole Industria 4.0 sono state le parole chiave degli incontri che fin dall'apertura si sono susseguiti a Toscana Tech, una nuova rivoluzione industriale che punta a mettere in rete le imprese, anche le più piccole, che vogliono innovare e restare competitive a partire dalle piattaforme online. Per questo la regione mette a disposizione strumenti e supporti che aumentino il livello di competenze delle aziende. Ogni componente del processo produttivo ha un contenuto di tecnologia che in questo momento ha bisogno di queste competenze e quindi se non ha al proprio interno quelle competenze avrà la possibilità e gli strumenti per poter accedere a quella piattaforma che la regione mette a disposizione. Noi stiamo formando educatori, stiamo formando manager, stiamo formando competenze per diffonderle e mettere a disposizione del nostro sistema nella sua globalità, consapevoli che non possiamo avere tutti strutturati come può essere strutturata una media o grande impresa. A riprova della vivacità della Toscana sul piano industriale e tecnologico i 38 prototipi di altrettante imprese toscane finanziati attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in mostra nel piano interrato di Villa Vittoria nell'ambito di Toscana Tech, dal sensore che scoraggia il furto della bici e aiuta a ritrovarla al cosiddetto internet delle cose per migliorare la manutenzione dei macchinari fino ai sensori utili in agricoltura per valutare salute e volume di una vigna e deciderne il trattamento migliore, una vera vetrina di eccellenze. Noi abbiamo deciso di investire sulle imprese che investono, che hanno fatturato, aumentano il fatturato e aumentano l'occupazione. Abbiamo deciso di investire sull'innovazione tecnologica. Tutto questo ha consentito all'impresa toscana di diventare più competitiva, di aumentare il proprio export e quindi anche di tenere meglio e di più rispetto alla crisi, anche sul piano occupazionale. Resta però da sciogliere il nodo della saldatura ancora da migliorare tra mondo delle imprese, della ricerca e dell'università, una connessione indispensabile per fare dell'industria 4.0 una vera rivoluzione in Toscana. Occorre capire quali sono i vincoli che frenano l'università dalla costruzione di percorsi che siano davvero efficaci per le imprese e dall'altra parte bisogna anche far conoscere alle imprese quali sono le opportunità che la formazione di terzo livello porta al loro sistema. Anche per questo la regione toscana dal 2017 ha messo in piedi una strategia per dare alle imprese e alle persone che affrontano la propria formazione gli strumenti per affrontare le sfide del futuro delineate a Toscana Tech, sfide che mettono all'orizzonte cambiamenti radicali sul piano dei sistemi produttivi e del mondo del lavoro. Sicuramente ci saranno dei posti di lavoro, delle professionalità, dei mestieri che non esisteranno più, ci sarà però anche la creazione di nuovi e ci sarà una sostituzione di competenze e di professionalità. Questo è in dubbio e allora la formazione comunque è e sarà uno degli asset strategici per affrontare il futuro. Ci sono imprese che lo hanno capito e che sono più dinamiche dal punto di vista dell'investimento in formazione, imprese che hanno bisogno di essere aiutate un po' di più. Quindi noi abbiamo messo in campo veramente tanti strumenti correlati, intanto per interpretare quello che è il fabbisogno formativo sia attuale che futuro del medio periodo e poi per poter rispondere in maniera coerente. E i risultati della formazione 4.0 attuata in Toscana sono stati raccontati dalle stesse imprese che hanno partecipato alla manifestazione a Villa Vittoria, strategie che hanno ridotto drasticamente il numero di giovani che non studiano né lavorano né cercano lavoro, i NIT, con un tasso di abbandono scolastico passato dal 17 all'11%, strategie che hanno avuto anche un altro pilastro. L'investimento importante su tutta l'alta formazione tecnica, quindi ITS e IFTS e i risultati importantissimi in termini di occupazione coerente dei giovani che escono da questi percorsi e anche la riduzione del tasso di disoccupazione a livello regionale e anche nelle aree costiere che avevano un divario molto importante con la Toscana centrale, ci fa capire che forse anche come interventi di coinvolgimento per l'occupabilità siamo riusciti a dare delle risposte efficaci. Ora la sfida lanciata da Toscana Tech è quella dell'attrazione degli investimenti e delle imprese in Toscana, i segnali ci sono, servono strategia e voglia di innovare. Penso che l'iniziativa, come mi veniva detto, sarà bene ripeterla anche nei prossimi anni, magari anche come iniziativa autonoma rispetto alle altre e invitare di più imprese, ricercatori perché questa cosa ha un grande valore e mette la Toscana al centro dell'innovazione tecnologica nel nostro paese. Grazie.